Come promesso è stato spianato il primo dosso, adesso c'è un scarico dell'asfalto che verrà rimpinguato lunedì per essere asfaltato correttamente in piano con la quadrettatura e con il fondo nero e le strisce bianche così come il codice di strada ci impone. Anche il marciapiede verrà modificato? Il marciapiede è stato già abbassato e quindi siamo già pronti ad asfaltarlo ovviamente con l'abbassamento per i portatori di handicap. Quanti sono ancora i dossi da sistemare e quando procederete? Sono circa una decina, adesso ci diamo scadenza a settimanale per poter organizzare la squadra che effettua questo tipo di lavoro e organizzarla nei vari siti. Nel giro di un paio di mesi dovremmo riuscire a farli tutti. Vorrei fare un regalo di Natale alla città che per Natale e soprattutto alla Croce Rossa e al pronto soccorso e al SUEM e alla Croce Verde fargli questo regalo di Natale. Che siano tutti a zero.